Emorragia cerebrale, oltre alla frattura allo zigomo, la prognosi di 25 giorni nei confronti del docente ipovedente preso a pugni dal padre di una sua studentessa, è stata sciolta solo nelle ultime ore. Questi fatti riferiti dalla polizia, avvenuti ieri all'uscita dalla scuola all'istituto comprensivo Abba Liglieri a Palermo, la ragazzina ha riferito al padre che l'insegnante l'avrebbe picchiata. A questo punto il genitore si è avventato sul docente e senza farlo replicare gli ha sferrato un pugno in faccia che lo ha fatto stramazzare per terra. Solo dopo l'intervento di altri professori e genitori la situazione sarebbe tornata sotto controllo e l'aggressore si sarebbe scusato per il proprio comportamento, anche perché la figlia nel frattempo avrebbe rettificato il suo racconto, ammettendo di non essere stata picchiata dall'insegnante ma solo allontanata dall'aula. La squadra mobile, referto in mano, sta comunque procedendo nei confronti del genitore.